Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con la prima parte del gameplay ad amnesia con la webcam come potete vedermi sono qua, scusate se non ho creato l'atmosfera ma non avevo voglia perchè è il primo video quindi risulta anche un pochettino di prova e niente ragazzi, cominciamo il gioco dai allora, faremo una storia personale che è House of Crip 4 iniziamola ah e... no niente dai ok, già solo l'inizio non mi piace non mi piace, l'avevo giocata prima, c'è solo l'inizio per sbaglio perchè l'ho fatta partire e poi tipo, cioè volevo vedere solo se funzionava e... quando sono uscito ho fatto salva ed esci, però non ho fatto niente io avevo solo il muro e poi sono uscito allora, prima vediamo questa porta no, non si apre vaffanculo bene eeeh... si non vedo niente se non vedete niente voi, non vedo niente neanche io ok, video censurato, già si sa niente 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 librerie inutili eeeh... qua cosa c'è? pila di libri una chiave oh, cosa c'è? cosa c'è? no, niente, non c'è niente mmm... curioso no, 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 ragazzi, già già non mi piace questa stanza non mi piace questa stanza con quel quadro no, 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 no però devo giocare io devo farlo per voi, ragazzi lo faccio per voi lo sto facendo per voi ma qui non c'è niente da prendere allora perchè l'hanno fatta sta cosa l'hanno fatta a fare, dai porta chiusa eeeeeee, e questa è aperta giustamente allora cosa c'è qua ah una lanterna, figo qua dentro cosa c'è? uh tante bellissime cose uddio uddio non mi piace sto sentendo troppo i burtini ah non sono sicuro che sto registrando il suono del gioco vabbè casomai questa è una parte di prova poi è giusto tutto uh olio no non mi dire che non lo posso prendere perché è buccato non ci arrivo va bene cominciamo male il cervello sta morendo ah è chiarissimo non so cosa voglia dire però perché c'è tutto questo buio dai cos'è che c'è uh uh dove chi quando cos'è 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 questo buio una porta chiusa logicamente non voglio nemmeno vedere cosa c'è in questo armadio non lo voglio guardare non lo voglio guardare non è successo niente non è successo niente perché questa cosa si illumina posso prenderla raccolto testa di agrippa mmm utile ammazza la testa staccata di agrippa ok qua c'è l'olio per la lanterna bene però non lo uso adesso vediamo qui cosa c'è un martello ah giusto perché mi servirà per aprire quella porta senza dubbio e le staccionate ok ma quel sangue prima c'era oddio cosa c'è qua dentro ecco ci sono ci sono le tavole e non le posso aprire ah oh si è aperta cos'è sto scusate l'interruzione ragazzi ma problemi cos'è sta cosa cos'è ah serve la testa di agrippa ma per fare cosa oddio controlliamoci intorno la porta è aperta la porta è aperta che faccio oh mio dio oh 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 oddio cos'è 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 oddio no 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 cos'è 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 oh mio dio ragazzi siamo solo all'inizio perché io so che questa mappa fa paura verso il centro ma io già mi sto giuro che mi sto cagando addosso ah questa porta è aperta prima prima non lo era ah serve la chiave ok un commento in corso io sto cagando addosso ah ma qua io posso usare la lanterra epico proprio epico la voglio rivedere la mia faccia questo forse lo metto faccio il replay non lo so anzi no forse non lo faccio perché mi secco questa porta dai chiusa e poi quindi questa è aperta oddio io ero proprio tranquillo tranquillo cos'è c'è oddio cos'è 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 oddio oddio no 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 non mi piace l'acqua non mi piace l'acqua non mi piace l'acqua ok olio e chiave vediamo se apre questa porta no ti pare aspetta no ti pare oddio devo aprire madonna oh oddio mi sto cagando addosso io me la faccio a corsa perché se mi arriva qualcosa davanti entri cos'è ma qua c'è la chiave di quella porta no 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 dov'è dov'è no 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 corro corro scappo 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 dov'è 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 è qua e che devo fare oddio 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 mi sto seguendo si sì eeee no 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 corre Pelosi Aiuto! 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 È entrato! È entrato! Calmo! Calmo! Non lo devo guardare! Non lo devo guardare! Non lo devo guardare! Non lo devo guardare! Ma dov'è? Oh mio Dio! Non ce la faccio! Mi sa proprio che devo scappare di qua? Non se ne va? Corro! Mannaggia! 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 Non si vede niente! Quanto è veloce! Aiuto! 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 Voi? 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 Grazie.